Allora, come è andata? Ciao, buongiorno, sono Simone Bumba Cognini, lui Andrea Guzzi, facciamo parte del Red Team, siamo una squadra chiaramente molto affiettata, tanti anni che lavoriamo insieme, lavoriamo per modo di dire, però è come se fosse un lavoro, perché qui tutto bene, le prove sono bellissime, l'accoglienza delle persone è splendida, l'organizzazione pure, la macchina ancora funziona, le ruote girano, andiamo avanti. Parola ad Andrea, che è anche l'ultimo, avrà qualcosa da dire, dopo la festa. Dopo la festa, un po' di stanchezza, ma cerchiamo di fare il più risultato possibile. Beh, complimenti, li ho visti veramente attivi. Grazie mille. Ciao, ciao.